Vi presentiamo PowerZoom Max, i nuovissimi occhiali con lente di ingrandimento straordinarie per vedere tutto il 160% più grande e grazie alle due luci a LED incorporate potrai fare tutti quei lavori che richiedono attenzione con semplicità anche al buio. Grazie al loro speciale design puoi usare i nuovi occhiali PowerZoom Max sopra i tuoi occhiali o lenti a contatto e istantaneamente vedrai tutto più grande. Così, infilare il filo nella cruna del lago, leggere le scritte piccole sarà più semplice e divertente. PowerZoom Max utilizza la tecnologia delle lenti in policarbonato di alta qualità con ingrandimento integrato. Grazie ai LED integrati i nuovi occhiali PowerZoom Max ti permettono di vedere anche quando non c'è luce. Potrai finalmente lavorare in posti dove c'è poca illuminazione. Potrai avere il tuo PowerZoom Max insieme ad una pratica custodia per il trasporto all'incredibile prezzo che vedi. In più, un secondo paio di PowerZoom Max compreso nel prezzo. Inoltre, insieme ai due paia di PowerZoom Max e alle loro due custodie, includeremo nel prezzo anche un paio di occhiali da sole trendy in stile avviatore insieme ad un elegante custodia. Quindi, due paia di PowerZoom Max con due custodie e un paio di occhiali da sole con custodia, tutto al prezzo che vedi. Se hai problemi a leggere le scritte piccole o a fare lavori complicati, PowerZoom Max ti può aiutare. Chiama per informazioni.